Botto di mercato di Lamene Scuola Basket Arezzo, che si assicura le prestazioni del playmaker italo-argentino Facundo Toya. Toya, 28 anni, aveva iniziato la stagione in Serie C Silver nella Robur Falconara. Alla Scuola Basket Arezzo vestirà la maglia numero 5 ed esordirà domenica nella trasferta sul campo del Costone Siena. Si gioca domenica alle 18 al Pala Orlandi di Monteriggioni. Nella gara di andate il Costone vinse dopo due tempi supplementari. Da quel giorno sono cambiate molte cose in casa senese. In primis l'avvicendamento in panchina che ha portato coach Ricci a guidare la squadra, che con il nuovo coach ha cambiato marcia. Arbitri dell'incontro saranno i signori Biancalani di San Giuliano Terme e Parigi di Firenze. La gara di andata finì su malgrado al centro di un caso mediatico, dopo che Meng, il giocatore del Costone, rivelò su Facebook di essere stato insultato da alcuni spettatori. Le polemiche dei giorni successivi alla partita sono poi rientrate.